Le stelle del firmamento sportivo bassanese più illuminose che mai, soprattutto sotto i riflettori dell'attesissimo Gran Galà dello Sport, la CMP Arena. Piccoli e grandi campioni e un unico obiettivo, superare i propri limiti. Che se è un campo da calcio, da basket, da tennis o po' alla volo, danza, skate o ginnastica, poco importa, l'importante è mettersi in gioco. Tra i tanti premi e riconoscimenti, il più scintillante, la stella giallorossa, quest'anno conferita a Simone Bertoncello e l'Estandro Benacchio della società Bassano Volley, qualificate al primo posto nel campionato europeo Under-17 con la nazionale italiana. Premio merito sportivo, invece, a Giuliano Grosselle della società NBA ASD per l'impegno e la passione nell'allenare gli atleti delle squadre di Baskin, sport inclusivo dove giocano atleti con disabilità e normodotati e un rappuntamento l'anno prossimo per tornare a vedere sul panco le nuove stelle giallorosse.